Buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è lunedì 12 settembre 2022 e vediamo subito come si festeggia la giornata di oggi. Non c'è un santo particolare ma è una devozione particolare quella che ci propone il calendario questa mattina. Ebbene oggi si festeggia il Santissimo Nome di Maria. È una devozione istituita da Papa Innocenzo XI per commemorare la vittoria dell'esercito cristiano quando gli ottomani assediarono Vienna nel 1683. Vinsero i cristiani e questo segnò la fine dell'avanzata dell'esercito ottomano verso l'Europa. Fu un baluardo importante come poi in precedenza era avvenuto con la vittoria di Lepanto per arrestare appunto l'avanzata degli arabi nel continente europeo. Vediamo anche il tempo. Vediamo come il tempo si mantiene ancora sereno. C'è una fase anticiclonica che procura un tempo stabile, asciutto, con cielo ampiamente soleggiato. Questa mattina l'alba era splendida. Spirano venti deboli e temperature massime fino a 28-29 gradi. I venti sulle coste spireranno con una tensione debole da est, sull'interno invece da est-nord-est. Le temperature dovrebbero essere in calo al mattino, fa piuttosto fresco, ma poi nella giornata la temperatura salza. Ebbene, ora apriamo i giornali a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. Vediamo subito l'articolo di apertura. È un articolo importante che evidenzia come procedono, anzi ricominciano, diciamo meglio, i lavori per il parcheggio di via di risorgimento. Un parcheggio importante perché si trova a due passi dal centro storico ed è un parcheggio che rimarrà libero. Non sarà né a discorario né a pagamento, quindi una risorsa veramente importante per gli automobilisti fanesi. Parcheggio via risorgimento, partiti lavori per lo stop estivo. Saranno piantumati 32 alberi. Ma la Lupus Fabula, l'associazione degli ambientalisti, protesta per l'abbattimento di due pioppi e di tre aceri. Ebbene, sono ripresi i lavori dopo una pausa, una pausa agostana, dove aveva fatto la comparsa una macchina, era una scavatrice per ripianare la superficie del parcheggio. Ma poi i lavori, c'erano le ferie, insomma, si erano di nuovo arrestati. Nonostante qualche lentezza nell'insegnamento del cantiere, riaffermato tuttavia l'obiettivo di portarla a conclusione entro l'anno. Questo procede, questo dice il contratto, insomma, entro dicembre dovrebbero finire i lavori. Insomma, però ancora da dicembre, diciamo, a settembre di tempo ce ne vuole. L'opera è stata appaltata per 246 mila euro alla ditta Baccari, costruzioni di nocera inferiore, che prevede la dislocazione di 88 stalli ricavati lungo il perimetro dell'area, ma anche all'interno del lotto, di cui un paio riservati ai disabili. Vi saranno stalli anche per le biciclette e le motociclette. Insomma, è un'importante struttura viaria questo come parcheggio. Uno dei rari parcheggi ampli a disposizione del centro storico. Ma i problemi della viabilità non finiscono qui. Il giornale evidenzia ancora degli incidenti. E' successo ieri notte. E' stata un'automobile che ha tamponato una motocicletta BMW che si era fermata su Viale 12 Settembre per motivi di traffico. Ieri notte, una decina di minuti dopo le 24, passata dunque la mezzanotte, tutti i passeggeri sono stati trasportati in ospedale, sia la passeggera della moto che la conducente dell'auto. Sono risultati feriti lievemente, quindi un codice non grave. Comunque, Viale 12 Settembre, l'incidente è accaduto presso a poco all'altezza dell'Istituto Battisti, si dimostra ancora una volta come un viale particolarmente pericoloso. E purtroppo lì nei pressi si sono verificati anche degli incidenti mortali. Terre sonore, raddoppiate le presenze. Adesso la Regione faccia la sua parte. Terre sonore è un evento in crescita. E ogni fase espansiva può consolidarsi, ma ha bisogno di essere sostenuta. Per il direttore artistico, il fanese Adriano Pedini, è arrivato il momento di superare le possibili punti di incertezza. È una manifestazione che si occupa di jazz. Con il jazz coinvolgiamo l'intera provincia e siamo un valore aggiunto, ha detto ancora Pedini. È una nuova rassegna musicale itinerante. Una costola del fano jazz by the sea che è stata già programmata per la prossima estate sull'onda del successo registrato dalla seconda edizione che si è appena conclusa. Insomma, una edizione, un evento, una manifestazione in crescita. E poi non possiamo non parlare del brodetto feste che ieri si è concluso nel Lido di Fano con grande partecipazione di gente. Ebbene, il giornale evidenzia come ancora una volta, dico ancora una volta perché è stato fatto così anche in passato, ha vinto un pesarese il concorso sulla Moretta. Moretta, una tipica bevanda fanese, ma sembra che i pesaresi siano migliori dei fanesi per realizzarla. Moretta in company si aggiudica la sfida, un barman pesarese. Si tratta di Lorenzo Foglietti, di Vinds Café, che si lascia alle spalle Damiano Massa e Thomas Paolini. E nella serata conclusiva del brodetto fest, la Moretta, nelle sue golose declinazioni, perché poi ci sono anche tanti modi per prepararla, è stata la protagonista con la ricetta Lavalle. È il dorato infuso alle foglie di lampone, succo di lampone, bitter al cioccolato, barbie, sciroppo di zucchero, cubo di ghiaccio ai fondi di caffè, uno spray di anice all'anice verde di Castignano. Ebbene, questa è la ricetta con cui Lorenzo Foglietti, del locale Vinds Café di Pesaro, ha vinto la seconda edizione di Moretta in Company Cocktes. Insomma, della Moretta originaria poco è rimasto, ma il sapore di questa nuova bevanda è certamente suggestivo, appetibile, perché poi ha convinto la commissione giudicante. Dunque, la Moretta, ancora una volta, ha un pesarese. Giriamo la pagina e ci troviamo nella Val Cesano, dove vediamo che si tratta di un problema che è accaduto al bocciodromo di terre roveresche. Il bocciodromo al buio con la centralina aperta, pericolo per i ragazzi che accendono le luci. Un lucchetto inadeguato permette l'accesso all'alimentazione elettrica. Ebbene, il video del blogger May. Che cosa è accaduto? È accaduto che il bocciodromo di terre roveresche è stato completamente al buio. La centralina elettrica semiaperta, per via di un lucchetto non appropriato, ha consentito ai ragazzini di penetrarvi con la mano per accedere agli interruttori. Oltre alla non appropriatezza, questa potrebbe essere anche pericolosa del caso, potrebbe anche esserci qualche pericolo in quella sorta di manovra, afferma il giornale. L'altra sera, comunque, ogni tentativo è andato a vuoto e ha dominato il buio pesto. Bolletta da 90 mila euro. Fortuna, l'aiuto degli sponsor. Si parla del beach volley marottese. È già a tempo di ripartenze tra nuove sfide e progetti da portare avanti. È uno degli impianti che sono il fiore all'occhiello a livello nazionale. Si tratta del Beach Stadium di Viale Europa a Marotta, inaugurato dieci anni fa. Ebbene, questo impianto si è confermato anche quest'estate come un polo di aggregazione per un movimento in forte espansione. Proprio a Marotta, infatti, il 2 agosto, c'è stata la tappa dei cosiddetti processi selettivi, con una giornata dedicata alla selezione e al monitoraggio dei migliori giocatori di beach volley regionale. Insomma, uno sport in continua ascesa. Ebbene, dobbiamo anche menzionare, a proposito, lì è beach volley, ma adesso parliamo anche di volley veri e propri, la vittoria dell'Italia ai campionati mondiali. A Senigallia il problema dell'ordine pubblico è particolarmente sentito. Coltelli in tasca, tre ragazzi denunciati, un altro nei guai, nascondeva dell'ascis. Una task force in azione nel weekend da parte delle forze dell'ordine. Toleranza zero contro droga e alcol. Una sanzione anche per ubriachezza. Ebbene, c'è stata un'azione determinata di controllo da parte delle forze dell'ordine che nel weekend hanno sondato i punti più strategici per quanto riguarda la situazione dell'ordine pubblico. Giovanissimi in centro a spasso con coltelli in tasca sono stati individuati, mentre il pendolare della droga arrivava addirittura dal Lazio con l'ascis in tasca. È stato un weekend piuttosto movimentato, quello appena trascorso sulla costa. Un fine settimana, in cui rilevate alcune problematiche, sia sul lungomare che nella zona della stazione a Senigallia, il questore di Ancona ha disposto un maxi servizio di controllo interforze. Un controllo che non si esaurirà con la stagione estiva, ma proseguirà anche nei prossimi mesi per assicurare a tutta la riviera della provincia di Ancona una situazione tranquilla. Ed ora passiamo invece alla pagina pesarese. Eccola qua. Si parla ancora di turismo. Si vede che per prolungare la stagione, una stagione che non è andata male quest'anno, però insomma la situazione del caro, delle fonti energetiche, preoccupa molto in vista della stagione invernale. Ebbene allora gli albergatori si organizzano. Hotel Svolta Green per contrastare le bollette Salasso. Che cosa dice quest'articolo? Dice che gli albergatori si mettono insieme per cercare di attingere ad un'unica fonte energetica e dove più persone si mettono insieme per comprare una cosa, in questo caso appunto il gas o l'energia elettrica, il prezzo insomma viene più equamente distribuito tra gli stessi. È l'APA che ha assunto questa iniziativa, l'Associazione degli Albergatori. L'APA infatti vuole unire le forze tra gli associati per costituire una comunità energetica. L'idea è quella di dotare gli alberghi di una centrale condivisa a pannelli solari e fotovoltaici, quindi fonti alternative all'acquisto del gas e anche dell'energia elettrica che dipende anche questa dal gas che ha raggiunto mai quotazioni alle stelle. E se un albergatore vuole continuare a tenere aperto il proprio esercizio deve in qualche modo ridurre le spese perché altrimenti non fa notte. San Nicola ha un afflusso record, è un consuntivo quello che evidenzia il Corriere Adriatico perché la fiera pesarese giunge alla fine. Tanta gente, ma gli ambulanti ancora non vanno giù i rincari che l'amministrazione comunale ha imposto per i parcheggi. Comunque è stata una edizione da ricordare, da incorniciare. Tantissima gente ha affollato la zona. Le contrattazioni sono andate abbastanza bene, anche se c'è sempre qualcuno che si lamenta. La domenica di San Nicola ha fatto il pieno di visitatori. Comunque è una fiumana impressionante che è iniziato da metà a metà mattina nonostante la pioggia. Appena il cielo si è... La pioggia è durata poco ieri quindi non appena il tempo si è rasserenato subito la gente ha affollato tutti i viali della fiera e hanno funzionato anche i bus navetta da San Decenzio e dalla Torraccia al suo e giù a pieno ritmo. Lo sport è strumento di restyling urbano inaugurati in nuovi impianti di quartiere a Villa Fastigi e Villa Ceccolini grazie ai fondi stanziati con il bilancio partecipato del Comune. Si sono riqualificati così un campo da tennis. è stato realizzato un nuovo sgambatoio un nuovo skate park una nuova area basket e una palestra outdoor tutto questo a Villa Fastigi e Villa Ceccolini. E qua un'altra notizia di cronaca scoppia la rissa in zona mare e i giovani aggradiscono i carabinieri. Si tratta di una rissa notturna che si è verificata dopo l'uscita dal locale da un locale appunto in zona mare grida, botte tra gli avventori qualcuno ha chiamato i carabinieri c'era una pattuglia che era nei pressi quindi non ha tardato ad arrivare appena sono arrivati fuggi fuggi appunto di coloro che se la davano di santa ragione solo due persone sono rimaste e hanno fronteggiato i carabinieri anzi li hanno derisi e sono ostacolati. Una notte dunque è movimentata tra il lungomare di Ponente e la zona del porto che in questi giorni appunto era interessata dalla fiera di San Nicola. Ebbene, cosa è successo? È successo che un trentenne e una ventitreenne sono stati arrestati dai carabinieri appunto per resistenza a un pubblico ufficiale e proprio oggi dovranno rispondere davanti al giudice della resistenza e quindi dovranno sottostare alla pena che verrà combinata. Giriamo ancora la pagina siamo al Benelli Week il leoncino festeggia con il primato di vendite di moto da oggi l'iniziativa più amata dagli appassionati dello storico marchio dedicata a Jarno Saarinen. Poi l'unica notizia che ci viene da Urbino parla del principe Carlo e rievoca un po' la visita che l'attuale re d'Inghilterra Carlo III ha effettuato 32 anni fa era il 6 maggio 1990 era allora principe di Galles e tornò a Urbino per la seconda volta e lo ricorda anche la signora che funse da interprete anzi le disse di parlare piano in modo che potesse così tradurre esattamente tutto quello che diceva e Carlo impressionò per il suo modo di proporsi proporsi non come re non come sovrano con il sussego di questa carica ma come artista perché anche lui disegnava e lo aveva fatto con una certa moderazione con una certa umiltà era stato invitato come artista e non nella sua solita veste di rappresentanza in compagnia di Carlo Ceci aveva dimostrato di avere un'ottima conoscenza anche della tecnica dell'arte quindi non solo un'ispirazione estemporanea diamo un'occhiata anche al Corriere al resto del Carlino dato che il tempo ci fugge vediamo che anche oggi è in edizione ridotta essendo il lunedì quindi cominciamo con la pagina di Pesaro e vediamo come si parli subito della fiera di San Nicola da ingegneria aerospaziale alla bancarella storie e volti della fiera dei grandi numeri parla Linda l'universitaria che vende waffle cos'è il waffle sono dei dolcetti con crema di tutti i gusti si tratta di una bancarella con questi dolcetti vediamo qui Viola e Linda le due ragazze che vendono questa curiosità questa golosità dobbiamo anche dire agli avventori sono Linda di 21 anni e Viola di 17 per la prima volta in fiera sono un esempio di creatività e di bellezza per quanto riguarda la fiera una fiera che ha portato davanti al pubblico 550 bancarelle con una vastissima gamma di prodotti con un'offerta che insomma con prezzi modici qui si parla di valori che si aggirano tra i 5 e i 15 euro questa è un po' la grande maggioranza dell'offerta poi ci sono ovviamente anche prezzi maggiori io c'ero ma a dar fuoco è stato lui un sedicenne scarica tutto sull'amico si tratta dei due ragazzi che sono stati individuati come dei piromani hanno dato fuoco tanto per divertirsi ad un camper e hanno fatto dei danni importanti comunque ha confessato tutto ma a modo suo il ragazzo più piccolo un sedicenne dando la colpa degli incendi a macchine campere cassonetti ad un amico che sarebbe un po' il leader del gruppo dal quale al quale non ci si poteva sottrarre se lui dava un ordine bisognava eseguirlo insomma sono anche dei ragazzi che non hanno una personalità forte e sono succubi anche della compagnia sono succubi del gruppo e in questo caso appunto il sedicenne ha scaricato un po' la responsabilità pur ammettendo la sua colpa è stato lui a dar fuoco ma sotto ordine di quell'altro perché se no quest'ultimo il capo lo avrebbe punito e poi un lutto è morto Alvaro Coli professore e giornalista lo aveva colpito un infarto cinque giorni fa e malgrado le cure non ce l'ha fatta Alvaro Coli è morto così a 78 anni pesarese sposato con Valeria e padre di due figlie Giovanna d'Alessandra è stato docente preside per anni dell'Iceo Classico di Urbino e anche giornalista dalla penna al peperoncino scrisse molto per la rubrica per una rubrica del nuovo amico il preside Coli fu anche preside fu anche dirigente della scuola Padalino di Fano insomma lo ricordano anche molti ragazzi che hanno frequentato questa scuola Brodetto Fest il finale è da applausi ma la migliore moretta è pesarese e dobbiamo fare tanto di cappello ai pesaresi chiusa la ventesima edizione anche ieri con il pienone la sfida conclusiva vinta da Lorenzo Foglietti ebbene un classico finale con la moretta competition con la ricetta Lavalle lo ripeto questa ricetta perché insomma è molto particolare allora Eldorado infuso alla foglia di lampone succo di lampone bitter al chocolate barbie sciroppo di zucchero cubo di ghiaccio ai fondi di caffè un spray di anice verde di castignano leggendo questo c'è da chiedere ma il caffè dov'è sì c'è anche fondi di caffè insomma comunque è una cosa buona buonissima bisogna assaggiarla perché la curiosità qui impone di assaggiare questa bevanda vincente alla edizione del brodetto feste e poi offeso dal ritratto di Putin il sindaco chiama ai carabinieri chi è il sindaco il sindaco è Antonio Bastianelli il quale si è sentito un po' un po' disgustato da un quadro che ritrae Putin lo vediamo qui in questa fotografia con l'aureola da santo bufera su un quadro in mostra a piagge i militari sono intervenuti ma non lo hanno rimosso l'autore Michele Panicali un artista fanese lo fatto ha detto dopo l'inizio della guerra però non è un omaggio ha voluto precisare l'artista comunque questo quadro con Putin con un cararmato sotto e questo sguardo un po' da nomenclatura sovietica con la stella sull'aureola insomma ha un che di sinistro e forse anche questo voleva dimostrare l'artista e vediamo anche la pagina di Senigallia sul resto del Carlino tre ragazzi con coltelli denunciati Senigallia durante i controlli delle forze dell'ordine durante la movida trovata anche la droga e concludiamo la nostra rassegna stampa con lo sport abbiamo dei risultati molto belli sia per quanto riguarda la Vispesaro che l'Alma Fano Vis coraggio qualità ma anche errori Fedato trova il guizzo da tre punti ebbene la Vispesaro si impone sul Fiorenzuola per uno a zero c'è anche un rigore sbagliato da Cannavò poi il gol nell'azione più esemplare nel finale è stato espulso Gazzoinini il gol è arrivato dopo l'intervallo nell'azione più esemplare dice il resto del Carlino stavolta la Vissa ha solcato il grande centro verticale Coppola a uccelli Fedato il quale si è bevuto Potop e questo farà piacere a Sassa che ricercava tali soluzioni invece per quanto riguarda l'Alma vediamo che il Pineto è stato abbattuto per due a uno Padovani ha aperto le danze Lo Sicco pareggia Broso fa centro in avvio di ripresa poi il Fortino regge insomma la difesa della squadra la Granata ha retto insomma la reazione del Pineto e questi risultati positivi incoraggiano per un avvio di campionato che quest'anno dovrebbe essere più soddisfacente almeno per quanto riguarda i tifosi e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle ore 20-30 con occhio alla notizia su Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.